Siamo con i bambini della nuova Pallavolo Campobasso. Aurora, mi racconti cosa fate il pomeriggio qui in palestra? Giochiamo e ci divertiamo. Che esercizi ti fanno fare le tue istruttrici? Ci fanno palleggiare e ci fanno dei percorsi. Ma ti piace tanto la Pallavolo? E perché proprio la Pallavolo? E perché mi piace questo sport. Abbiamo anche qualcuno qui dietro che ci stava rispondendo. Nicola, giusto, perché fai la Pallavolo? Perché giochi a Pallavolo? Cosa ti piace di questi pomeriggi trascorsi in palestra? Venire. Venire. A te che cosa ti piace fare? A me piace pallaggiare e giocare molto. In più a Pallavolo si possono fare tanti amici. Si può pure imparare a giocare insieme, a fare un po' di sport. Proprio c'è un po' di tutto in questo magnifico gioco. Ma quando torni a scuola soprattutto, che cosa racconti ai tuoi amici di quello che fai il pomeriggio qui in palestra? Che mi sono divertito molto, soprattutto perché qua è l'unico sport in cui si può usare le palla e le mani. Si può divertire molto. Siamo anche con le più piccoline. Quanti anni hai e come ti chiami? Ho quattro anni. E che cosa fai tu il pomeriggio in palestra con le tue amichette? Do che mangioletti e diavoletti. E che cosa fanno gli angioletti e i diavoletti? Tu lo sai che cosa fanno? Me lo vuoi raccontare? Cioè, scelgono i diavoletti e gli altri sono angioletti. Poi quando dice via Patrizia, i diavoletti devono accappiare gli angioletti. Quando un angioletto è stato toccato, lui deve stare a gambe aperte e fermo. Poi un altro angioletto, se lo vuole salvare, passa sotto le gambe e poi si libera l'angioletto. Mi hai nominato Patrizia, che è la vostra maestra qui in palestra. Ma mi dici com'è Patrizia? È brava. E se gli diamo anche un voto? Sì, è brava. Fa sempre quello che ci piace tanto fare. Valleggiamo, facciamo giochini, facciamo gli esercizi e altre cose carine. E giochiamo pure con la palla. E ti piace giocare con la palla? Sì. Buona Pasqua a tutti!